Costanza Caracciolo incinta di Bobbo Vieri, lo scoop di chi?. Bobbo Vieri papà, lavelina Costanza Caracciolo è incinta. . Altro che flirt estivo, la storia tra Bobbo Vieri e Costanza Caracciolo è più seria che mai. Tanto che, come fa sapere il settimanale chi nel numero in edicola mercoledì 8 novembre, la coppia è in attesa di un figlio. Non si sa ancora se è un maschio o una femmina ma pare che il parto si è previsto per la primavera del 2018. . Per il momento i diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia ma è probabile che lo facciano nei prossimi giorni. . 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